Cosa direvi? Stiamo lavorando molto sul settore giovanissimi che per noi rappresenta la base su cui investiamo tutte le nostre risorse economiche e anche umane perché sappiamo tutti che poi questi sono gli atleti, gli uomini di domani. Quindi una giornata come oggi per noi diventa di fondamentale importanza. Saluto tutte le autorità presenti, saluto Francesco Moser, Presidente Buzomi, saluto il Delegato regionale Francesco Corrado che per noi è l'anima dell'attività ciclistica qui sul territorio regionale. Siamo lavorando in grande simbiosi con il Comitato regionale Calabria, tant'è che oggi oltre alla gara che assisteremo fra poco sarà prevista anche la consegna di materiale che il Presidente regionale affiderà al Comitato provinciale per poi... un materiale che serve per lavorare con questi ragazzi. Noi chiediamo molto, ripeto, su questa iniziativa perché è quella che fa la promozione del ciclismo e sicuramente quando poi abbiniamo questi bambini che svolgono queste attività in luoghi sicuri e in contenitori così belli come questi significa anche legare la promozione del territorio a queste realtà. Per cui noi veramente ci commendiamo come Consiglio federale per quel lavoro che state facendo, la Calabria ci sta seguendo in maniera molto puntuale, molto corretta, quindi condividi in pieno la nostra attività e proseguiamo su questa linea. Grazie a tutti.